Bene, ora andremo a visualizzare i libri nel browser, per cui all'interno della directory front-end andiamo a realizzare un altro file HTML e lo chiamiamo listbook.html. Ora per velocizzare la video-lezione andremo ad incollare il codice HTML che trovate nell'articolo sotto, quindi visualizza i libri nel browser, quindi copio, add, incollo, quindi salvo, apro nel browser per vedere chiaramente ora non mi da nulla in quanto devo implementare il metodo nel server che mi consente di far vedere i libri come vedete qui c'è una chiamata al file JavaScript booklist e questo va realizzato sempre all'interno della cartella front-end quindi booklist.js anche questo qui andiamo a copiarlo per realizzare il tutto, tanto è molto semplice, eccolo qua ok, come vedete ho già previsto i metodi che mi consentono di aprire un modal e il metodo che mi consente di cancellare il libro che andremo ad implementare successivamente come vedete c'è un metodo, come vedete c'è un metodo, una costante loadbook il quale, la quale mi consente di andare a collegarmi quindi al server localhost 3000 books e mi consente di convertire il file JSON in formato testuale quindi il tutto poi va dato in paston ciclofor il quale mi estrae i file dall'array e me li restituisce tanti, quanti sono i libri inseriti e questo è il file andiamo ad aprire vedete non si apre in quanto è quindi aprite il metodo index.js metodo qui mi aspetto books quindi in plurale, scusate quindi books ora non c'ho nulla andiamo ad inserire di nuovo il libro submit qui mi aspetto il libro perfetto quindi list of books questa volta c'ho il libro appena inserito ora nel prossimo video andremo ad implementare il metodo che ci consente di modificare il libro e il libro appena inserito grazie a tutti